la saggezza di padre brown capitolo 10 l'insalata del colonnello cray padre brown stava camminando verso casa dopo la messa in una mattina strana e bianca con la nebbia che si stava alzando lentamente una di quelle mattine in cui la luce sembra avere qualcosa di misterioso e di nuovo gli alberi sparsi si stavano delineando sempre di più uscendo dal vapore come se fossero stati prima disegnati in gesso bianco e poi ripassati con il carboncino a intervalli ancora più distanti le case apparivano sul confine irregolare del soborgo e i loro contorni divendero sempre più chiari fino a quando ne riconobbe molte nelle quali aveva delle conoscenze abbastanza superficiali e molte altre di cui invece conosceva bene i proprietari tutte le finestre e le porte però erano sigillate nessuna delle persone che abitavano quelle case era del genere che si alzava presto a quell'ora o ancor meno di quel genere di persona come lui che era già fuori casa mentre passava l'ombra di una bella villa con verande e ampie giardini riccamente coltivati sentì un rumore che lo fece fermare era il rumore inequivocabile di una pistola o di una carabina o comunque di un'arma da fuoco leggera non fu però questo che lo confuse di più il primo sparo era stato immediatamente seguito da una serie di altri spari più deboli approssimativamente sei dal conteggio che fece da prima penso che potesse essere stato l'eco ma la cosa strana era che l'eco non era affatto simile al suono originale e non assomigliava a nulla che lui potesse ricordare le tre cose più vicine alle quali lo poteva associare erano il rumore prodotto dai sifoni di sales uno fra i molti rumori emessi da un animale che soffia o il rumore fatto da una persona che tenta di trattenere una risata nessuno di questi gli pareva però avere molto senso in padre brown vi erano di fatto due uomini c'era un uomo d'azione modesto una mammola e puntuale come un orologio che girava attorno al suo piccolo quadrante di doveri e che non si era mai sognato di modificarli c'era poi un uomo riflessivo molto più semplice ma molto più forte che non poteva essere fermato facilmente e l'acquimente era sempre nell'unica accezione intelligente della parola una mente libera non poteva trattenersi anche inconsapevolmente dal porsi tutte le domande che vi erano da porsi e di rispondere a tutte quelle a cui poteva rispondere tutto questo accadeva in modo naturale come la sua respirazione e come la sua circolazione del sangue non aveva però mai portato consapevolmente le sue azioni al di fuori della sfera dei propri doveri e in questo caso i due atteggiamenti venivano messi duramente alla prova stava quasi per riprendere la sua lunga e faticosa camminata nel crepuscolo dicendosi che in fondo non erano fatti suoi ma istintivamente stava anche creando e disfacendo venti teorie diverse circa quello che poteva significare quegli strani rumori che aveva sentito nel frattempo la linea grigia del cielo si era fatta quasi argentea e nella luce che avanzava padre brown si accorse di riconoscere quella casa che apparteneva a un anglo indiano il maggiore putnam e che il maggiore aveva un cuoco nativo di malta pure lui cattolico cominciò anche a ripensare che a volte i colpi di pistola sono cose serie accompagnate spesso da conseguenze delle quali lui legittimamente si interessava ritornò quindi sui suoi passi raggiunse il cancello del giardino che fungeva da anche da ingresso anteriore della casa a metà strada su un lato dell'edificio sporgeva una specie di tettoia bassa che era come scoprì in seguito una grande pattumiera in quel mentre girò all'angolo una figura che in un primo momento gli sembrò semplicemente un'ombra della foschia apparentemente china a spiare intorno a sé avvicinandosi quell'ombra si solidificò però in una figura che invece era piuttosto solida il maggiore putnam era un uomo calvo dal collo taurino basso e molto largo con una di quelle facce apoplettiche che sono il prodotto di un tentativo prolungato di combinare il clima orientale con i lussi occidentali ma il suo viso era gioviale e anche ora sebbene evidentemente imbarazzato e indagatore mostrava un sorriso innocente portava sulla testa tenuto piuttosto all'indietro un grande cappello di foglie di palma che suggeriva una oreola non particolarmente appropriata al suo viso inoltre era vestito solamente con un vivacissimo pigiama a strisce gialle e rosse che sebbene si facesse notare per quelle strisce rosse che sembravano lingua di fuoco che ardevano non doveva tenere molto caldo in quella mattina così fresca evidentemente era uscito di casa piuttosto di fretta e il prete non fu sorpreso quando gli chiese senza ulteriori cerimonie ha sentito quel rumore sì rispose padre brown ho pensato che sarebbe stato meglio dare un'occhiata nel caso fosse successo qualcosa il maggiore lo guardò in modo strano con i suoi occhi bonari che sembravano chicchi di uva spina che pensa che fosse quel rumore chiese sembrava un colpo di fucile o qualcosa di simile rispose l'altro esitando anche se mi è sembrato che avesse un eco piuttosto singolare il maggiore lo stava ancora guardando con calma ma con gli occhi sgranati quando la porta d'ingresso si spalancò lasciando uscire un'inundazione di luce artificiale che illuminò la nebbia che si stava diradando e un'altra figura in pigiama saltò o cadde fuori dal giardino era una persona molto più alta più snella più sportiva del maggiore il pigiama sebbene ugualmente tropicale era il confronto più raffinato bianco con leggere strisce giallo limone l'uomo era sparuto ma bello e più abbronzato dell'altro aveva un profilo aquilino e occhi piuttosto incavati con un'aria strana che gli veniva dalla combinazione tra i capelli neri come il carbone e i baffi molto più chiari tutto questo padre brown lo osservò nel dettaglio e più a suo agio successivamente in quel momento invece l'unica cosa che vide di quell'uomo fu la rivoltella che teneva in mano crei esclamò il maggiore sgranando gli occhi è stato lei a sparare col colpo sì sono stato io ribatte accalorandosi il gentiluomo dei capelli neri l'avrebbe fatto anche lei al mio posto se fosse inseguito dappertutto dei demoni e quasi il maggiore parve a frettarsi a intervenire questo è il mio amico padre brown disse e poi rivolto al padre brown non so se conosci il colonnello crei dell'artiglieria reale ho sentito parlare di lui ovviamente disse il prete innocentemente avete avete colpito qualcosa penso di sì rispose crei con gravità e chiese il maggior putnam a bassa voce è caduto ha gridato o cos'altro il colonnello crei stava guardando il suo ospite con uno sguardo strano e fisso le dirò precisamente quello che ha fatto disse ha starnutito padre brown si portò le mani alla testa con il gesto di un uomo che si ricorda improvvisamente un nome ora capì che quel rumore non era né il borbottare del sales né lo sbuffare di un cane beh esclamò con vivacità il maggiore non avevo mai sentito prima d'ora che una rivoltella dell'esercito facesse starnutire nemmeno io convenne con voce flebile padre brown è una fortuna che non abbia puntato la rivoltella verso di lei altrimenti è probabile che si sarebbe preso davvero un brutto raffreddore poi dopo una pausa imbarazzante chiese era una scassinatore su entriamo disse il maggiore putnam piuttosto bruscamente li fece entrare in casa sua l'interno mostrava uno di quei paradossi che si notano spesso in simili ore mattutine sembrava infatti che le stanze fossero più brillanti del cielo anche dopo che il maggiore ebbe spento la luce a gas nell'atrio padre brown fu sorpreso nel vedere la tavola da pranzo apparecchiata come per un banchetto festivo con i tovagliolini infilati nei loro anelli e sei bicchieri diversi dalle forme inusuali messi accanto ad ogni piatto sarebbe stata abbastanza normale a quell'ora del mattino imbattersi piuttosto nei resti di un banchetto della sera precedente ma trovare preparato così in anticipo era un fatto alquanto insolito mentre se ne stava esitante nel latrio a guardare la tavola il maggior putnam ripasso davanti e lanciò un'occhiata furiosa sulla distesa blunga della tovaglia finalmente parlò e biascicando disse tutta l'argenteria è sparita i coltelli da pesce le forchette la vecchia ampolliera e perfino la vecchia brocca d'argento per la panna tutto sparito e ora padre brown sono pronto a rispondere alla sua domanda se si trattasse di uno scassinatore è solamente una finta disse crei caparbiamente so meglio di lei perché perseguitano questa casa lo so meglio di lei perché il maggiore gli batte su una spalla col tipico gesto con il quale si vuole calmare un bambino ammalato e disse era una scassinatore era di sicuro una scassinatore uno scassinatore con un brutto raffreddore osservò padre brown che potrebbe esservi utile per rintracciarlo qui intorno il maggiore scosse la testa con aria cupa temo sia impossibile ormai poterle rintracciare disse poi mentre l'inquedo uomo con la rivoltella si diresse nuovamente verso la porta del giardino aggiunse sottovoce con tono riservato non so se si è il caso di mandare a chiamare la polizia ho paura che il mio amico qui sia stato un po troppo disinvolto con le sue pallottole non vorrei che si trovasse nella parte sbagliata della legge ha vissuto in luoghi molto selvaggi e se debba essere franco con lei penso che a volte si lasci un po prendere dall'immaginazione mi pare di ricordare che una volta lei mi raccontò disse padre brown che crede che una società segreta indiana lo stia perseguitando il maggiore putnam accennò di sì con la testa ma contemporaneamente si strinse nelle spalle suppongo che faremo meglio a seguirlo fuori disse non voglio più diciamo starnuti uscirono nella luce del mattino che ora si era tinta anche della luce del sole e videro la figura alta del colonnello crei quasi piegata in due mentre esaminava minuziosamente le condizioni della ghiaia e dell'erba mentre il maggiore gli si avvicinava con discrezione il prete con lo stesso passo indolente fece un giro intorno che lo portò dietro all'angolo più vicino della casa a un paio di metri dalla pattumiera che sporgeva dal muro rimase in silenzio a fissare per un minuto e mezzo quel brutto oggetto poi avanzò verso di esso alzò il coperchio e vi cacciò dentro la testa polvere e altre particelle di varia natura volarono verso l'alto mentre faceva così ma padre brown che non si curava mai molto del suo aspetto osservò qualcos'altro rimase così per un certo tempo come se fosse occupato in preghiere misteriose poi si alzò improvvisamente con un po di cenere sui capelli e si allontanò con indifferenza quando giunse di nuovo all'ingresso del giardino trovò un gruppo allegro di persone che sembrava voler dissipare i cattivi pensieri come la luce del sole aveva già dissipato la nebbia in nessun modo erano razionalmente rassicurati erano semplicemente molto comici come un gruppo di personaggi di kenziani il maggiore putnam aveva nel frattempo trovato il modo di rientrare in casa e indossare una camicia e dei pantaloni appropriati con una fascia di seta color cremisi e un'ampia giacca leggera posta così normalmente in risalto la sua faccia allegra e rossa pareva scoppiare di spontanea cordialità in realtà era piuttosto esagitato ma stava parlando con il cuoco l'olivastro figlio di malta la cui la faccia magra pallida e piuttosto provata dalle preoccupazioni era in bizzarro contrasto con il suo cappello e con il vestito bianco come la neve è probabile che il cuoco fosse locurato dalle preoccupazioni per il fatto che la gastronomia era l'obby del maggiore ovvero uno di quei cuochi dilettanti che pensano sempre di sapere più dei professionisti l'unica persona che accettava come giudice di un omelette era il suo amico cray e come padre brown si ricordò di questo si girò per cercare l'altro ufficiale nella nuova presenza della luce del giorno e di fronte a quelle persone vestite con la testa a posto il suo aspetto procurava una certa scossa più alto e più elegante era ancora nel suo abbigliamento notturno con i capelli neri scompigliati e ora strisciava carponi per il giardino sulle mani e sulle ginocchia ancora in cerca delle tracce dello scassinatore ogni tanto colpiva il terreno con la mano arrabbiandosi per il fatto di non trovare nulla vedendolo così a quattro gambe nell'erba il prete alzò piuttosto malinconicamente le sopracciglia e per la prima volta sospettò che il suo immaginarsi le cose potesse essere un eufemismo anche il terzo elemento nel gruppo del cuoco e dell'epicureo era conosciuto da padre brown si trattava di audrey watson pupilla e governante del maggiore in quel momento a giudicare dal suo grembiule dalle maniche rimboccate dai modi risoluti era molto più governante che pupilla vi sta bene stava dicendo ve l'ho sempre detto di non temere quella bolliera così antiquata io la preferisco rispose conciliante putnam perché anch'io sono una persona antiquata e i vari pezzi del servizio stanno bene insieme e svaniscono insieme come lei ha potuto vedere rispose lei beh se lei non si preoccupa dello scassinatore non vedo perché io dovrei preoccuparmi per il pranzo è domenica e non possiamo ordinare l'aceto e tutto il resto in città e voi gentiluomini indiani non sapete godervi un pranzo senza ficcarci una quantità di cose piccanti vorrei tanto non aver chiesto a mio cugino oliver di portarmi alla funzione cantata non finirà prima delle 12 e mezzo il colonnello deve partire prima non penso che voi uomini siate in grado di cavare per la sola o sì che possiamo mia cara disse il maggiore guardandola molto amabilmente marco ha tutte le salse e noi spesso ce la siamo cavata benissimo in luoghi molto più inospitali come lei dovrebbe sapere è ora che si prenda qualche svago odry non deve essere una governante ad ogni ora del giorno e poi so che lei ci tiene molto a sentire la musica io voglio semplicemente andare in chiesa disse con occhi piuttosto severi era una di quelle belle donne che restano sempre belle perché la bellezza non è un atteggiamento in un colore ma nella struttura stessa della testa e dei suoi tratti sebbene lei non avesse ancora raggiunto la mezzetà e i suoi capelli ramati fossero di una pienezza tizianesca per massa e per colore c'era però un'espressione nella sua bocca e nei suoi occhi che suggeriva che qualche dolore la stesse consumando nello stesso modo in cui i denti finiscono per consumare i bordi di un tempio greco in realtà la piccola difficoltà domestica della quale lei ora stava parlando era decisamente più comica che tragica padre brown dedusse dal corso della conversazione che crei l'altro grumet doveva partire prima del solito orario per il pranzo e che putnam il suo ospite per non essere lasciato fuori dal festino finale con il suo vecchio amico aveva disposto che uno speciale degenee fosse preparato per essere consumato nel corso della mattinata mentre odry e le altre persone più serie si trovavano alla funzione lei ci stava andando con la scorta di un parente un vecchio amico suo il dottor oliver oman che sebbene fosse un uomo di scienza dal carattere piuttosto amaro era un appassionato di musica e sarebbe andato addirittura in chiesa per ascoltarla non c'era nulla in tutto questo che potesse giustificare l'espressione di tragedia sul volto della signorina watson e per un istinto mezzo consapevole padre brown si rivolse di nuovo verso l'uomo apparentemente folle che stava frugando nell'erba quando gli si avvicinò la testa nera e spettinata si rialzò improvvisamente come se fosse sorpresa per quella sua presenza ostinata e in effetti padre brown per ragioni a lui più note si era attardato più a lungo del normale anche più di quanto richiedesse l'educazione beh esclamò crei con occhi stranunati suppongo che anche lei penserà che io sia pazzo come tutti gli altri ho preso in considerazione quest'ipotesi ammise il piccolo uomo senza scomporsi ma sono incline a pensare che lei non lo sia cosa intende dire sbottò clai piuttosto selvaggiamente i veri pazzi spiegò padre brown tendono sempre a incoraggiare le fissazioni della loro stessa fantasia non la combattono mai ma lei sta tentando di trovare le tracce dello scassinatore anche quando non ce ne sono lei sta lottando contro la fantasia e vuole quello che nessun altro folle vorrebbe mai e che cosa sarebbe lei vuole dimostrare da avere torto disse padre brown durante le ultime parole crei si era alzato con un balzo e stava fissando l'ecclesiastico con occhi inquieti per l'inferno queste sono parole esclamò loro sono tutti contro di me perché dicono che quell'individuo cercava solamente l'argenteria come se io non dovessi essere contento che il motivo potesse essere solo questo lei mi ha dato addosso e indicò odri con la sua spettinata testa nera benché padre brown non avesse nessun bisogno dell'indicazione lei oggi mi ha dato contro perché sono stato crudele a sparare a un povero innocuo svaleggiatore di case e perché sempre secondo lei io avrei il diavolo in corpo contro gli innocui e poveri indigeni ma una volta ero anch'io un uomo buono buono come putnam dopo una pausa disse guardi io non l'ho mai vista prima ma se vuole potrà giudicare l'intera storia il vecchio putnam e io eravamo amici per la pelle ma a causa di alcuni incidenti avvenuti lungo il confine afgano fui promosso molto prima di quanto succede alla maggior parte degli uomini solo che noi fummo rimandati in convaliscenza a casa per un po io ero fidanzato con odri là e così facemmo un viaggio di ritorno tutti e tre insieme ma durante quel viaggio accaddero alcune cose cose piuttosto curiose il risultato fu che putnam voleva che rompessimo il fidanzamento e odri stessa cominciò a tirarla per le lunghe e io so quello che volevano dire so quello che loro pensano che io sia e anche lei bene questi sono i fatti l'ultimo giorno nel quale ci troviamo in una città indiana chiese a putnam dove avrei potuto trovare dei sigari trintinopoli e lui mi indicò un piccolo luogo di fronte al suo alloggio ho poi scoperto che l'indicazione era corretta anche se di fronte è una parola pericolosa quando una casa decente si trova di fronte a 5 o 6 case squallide e io purtroppo sbagliai porta questa si apri con difficoltà e all'interno vidi solamente l'oscurità ma come mi girai di nuovo la porta dietro di me si chiuse di nuovo e venne subito chiusa con il rumore di numerosi catenacci non c'era nulla da fare se non andare avanti cosa che io feci corridoio dopo corridoio immerso in un buio nero come la pece arrivai quindi a una rampa di scale e poi a una porta cieca bloccata da un chiavistello in ferro lavorato con un'elaborata foggia orientale che potei sentire solamente al tocco ma che alla fine riusci comunque ad aprire mi ritrovai di nuovo nell'oscurità anche se meno fitta in una specie di crepuscolo verdastro che proveniva da una moltitudine di piccole lampade con una luce costante che mi mostrarono soltanto il perimetro di un'enorme sala deserta e proprio di fronte a me c'era qualcosa che sembrava una montagna confesso che quasi precipitai sulla grande piattaforma di pietra sulla quale ero emerso rendendomi conto che era un idolo e cosa peggiore di tutto un idolo con la schiena rivolta verso di me mi ricordava solo vagamente qualcosa di umano a giudicare dalla piccola testa schiacciata e ancora di più una cosa simile a una coda o un membro supplementare sulla parte posteriore rivolto verso l'alto come un grande dito disgustoso che sembrava indicare il simbolo scolpito nel centro della schiena dell'enorme scultura nella luce fioca avevo cominciato a cercare di tradurre il geroglifico non senza orrore quando accadde qualcosa di ancora più orrendo una porta si aprì silenziosamente nel muro del tempio dietro di me e un uomo uscì con una faccia scura e una giacca nera aveva un sorriso scolpito sulla faccia con i denti bianchi come l'avorio che risaltavano penso però che la cosa più odiosa in lui fosse il fatto che era vestito all'europea ero preparato a monaci a botti in mantelli o a facchieri nudi ma questo individuo sembrava dirmi che la stregoneria su tutta la terra è più diffusa di quanto si pensi cosa che davvero ho avuto modo di constatare se lei avesse visto solo i piedi della scimmia disse senza alcun preambolo con questo sorriso fisso saremmo potuti essere molto gentili lei sarebbe stato solo torturato prima di essere ucciso se avesse visto la faccia della scimmia avremmo potuto essere ancora molto moderati e molto tolleranti lei sarebbe stato solo torturato e sarebbe rimasto vivo ma siccome lei ha visto la coda della scimmia noi dobbiamo pronunciare la sentenza peggiore che è se ne vada libero non appena disse queste parole sentì il complicato chiavistello di ferro con il quale avevo lottato aprirsi automaticamente e poi in fondo i corridoi scuri per i quali ero passato sentì la pesante porta sulla strada aprirsi anch'essa è inutile che lei chieda misericordia deve andarsene libero disse l'uomo sorridente d'ora in poi un capello la ucciderà come una spada e un alito la morderà come una vipera armi verranno a colpirla dal nulla e lei morrà molte volte detto questo fu inghiottito dalla parete dietro di lui e io me ne usci in strada crei fece una pausa mentre padre brown si sedette con disinvoltura sul prato e cominciò a raccogliere margheritine poi il soldato continuò putnam naturalmente con il suo innato buonsenso minimizzò tutte le mie paure e da allora ha però cominciato a dubitare del mio equilibrio mentale bene ora le dirò semplicemente con il minor numero di parole le tre cose che mi sono accadute da allora starà lei a giudicare chi di noi abbia ragione il primo fatto accadde in un villaggio indiano ai confini della giungla ma a centinaia di miglia dal tempio dalla città dal tipo di tribù e dai costumi del luogo di dove mi era stata lanciata la maledizione mi ero svegliato in una nera mezzanotte ed ero rimasto disteso senza pensare a nulla in particolare quando sentii un non so che di impalpabile che mi faceva il solletico come se un filo o un capello mi passasse sulla gola mi ritrassi e non potei non pensare alle parole che mi erano state dette nel tempio ma quando mi alzai per cercare delle luci e uno specchio vidi una striscia di sangue che mi attraversava il collo il secondo fatto accadde in un alloggio a port said un po di tempo dopo durante il nostro viaggio di ritorno insieme era un incrocio tra una taverna e un negozio di curiosità e sebbene non ci fosse niente perché potesse suggerire neppure vagamente il culto della scimmia era comunque possibile che qualche sua immagine o un talismano legato a quella religione potesse essere in quel luogo la sua maledizione comunque era là mi svegliai di nuovo nel buio con una sensazione che non si potrebbe definire in parole più fredde più distaccate se non dicendo che un respiro mi aveva morso come una pipera la mia esistenza stava diventando un'agonia senza fine sbattei la testa contro le pareti fino a quando trovata una finestra mi buttai giù precipitando dal giardino sottostante puttana il poveretto che aveva definito il precedente incidente con un graffio casuale fu costretto a prendere sul serio il fatto di trovarmi all'alba mezzo svenuto in mezzo all'erba temo però che anche questa volta fu più preoccupato del mio stato mentale che non della mia storia il terzo incidente avvenne a malta eravamo alloggiati in una fortezza e le nostre camere da letto guardavano verso il mare aperto che quasi arrivava al davanzale delle nostre finestre protette da un muro esterno bianco nudo come il mare anche questa volta mi svegliai di notte ma non era scuro c'era la luna piena quando mi avvicinai alla finestra tanto che avrei potuto vedere un uccello sulla merlatura nuda o una vela all'orizzonte quello che vidi era invece una specie di bastone forse un ramo che girava in cerchio da solo nel cielo vuoto volò diritto verso la mia finestra e sfasciò la lampada posta accanto al cuscino che avevo appena lasciato era una di quelle mazze da guerra della forma strana usati da certe tribù orientali la cosa certa era che non era stato lanciato da nessuna mano umana padre brown gettò via la ghirlanda di margheritine che stava componendo e si alzò pensieroso il maggiore putnam chiese possiede per caso alcune curiosità orientali che ne so idoli armi e cose così delle quale si possa attrarre qualche suggerimento moltissime sebbene non servono a molto mi creda rispose crei ma mi seguo la prego andiamo nello studio mentre entravano passarono davanti alla signorina watson che si stava bottonando i guanti per andare in chiesa e sentirono la voce di putnam che di sotto stava tenendo una conferenza sulla gastronomia al cuoco nello studio del maggiore un vero paradiso di oggetti rari incontrarono una terza persona vestita a festa con cappello a cilindro e pronta per uscire che stava leggendo attentamente un libro aperto sul tavolo da fumo un libro che lasciò cadere con aria piuttosto colpevole quando si girò crei lo presentò con sufficiente cortesia come il dottor oman ma lo fece con tale ostilità sul volto che padre brown immaginò che i due uomini che odry lo sapesse o meno erano rivali non che il prete fosse completamente in disaccordo con questo giudizio il dottor oman era un gentiluomo davvero ben vestito con i lineamenti eleganti sebbene piuttosto scuri come quelli di un asiatico padre brown dovette cercare di convincersi che si doveva essere caritatevoli anche con le persone che per abitudine si incerano la barba appuntita che hanno piccole mani inguantate e che parlano con voci perfettamente modulate crei sembrò trovare qualcosa di particolarmente irritante nel piccolo libro di preghiere nella mano inguantata di oman non sapevo che la religione entrasse nei suoi interessi disse piuttosto sgarbatamente oman rise piano senza offendersi per quelle parole questo vi entra di più lo so disse mentre posava la mano sul grande libro che aveva lasciato cadere è un dizionario sulle droghe su cose simili ma è troppo grande per portarlo in chiesa poi chiuse il grande libro con quello che sembrò di nuovo un tocco debole di fretta e di imbarazzo suppongo disse il prete che sembrava ansioso di cambiare argomento che tutte queste lanci e questi oggetti vengono dall'india da ogni parte del mondo rispose il dottore putnam è un vecchio soldato ed è stato in messico in australia nelle isole dei cannibali per quanto ne sappia io spero che non sia nelle isole dei cannibali disse padre brown che ha imparato l'arte della gastronomia e il suo sguardo corse sulle marmitte sugli altri strani utensili appesi al muro in quel momento l'oggetto della conversazione ficco ridendo la sua faccia da ragosta nella stanza vieni crei annunciò la tua colazione è pronta e le campane stanno chiamando tutti quelli che vogliono andare in chiesa crei scivolo di sopra per andarsi a cambiare mentre il dottor roman e la signorina watson uscirono solennemente per strada accodandosi a una file di altri devoti padre brown notò che il dottore si guardò due volte indietro per scrutare la casa tornando persino nell'angolo della strada per guardarla ancora il prese sembro confuso lui non può essere andato dalla pattumiera mormorò non con quei vestiti almeno o c'è andato in precedenza questa mattina padre brown nei confronti delle altre persone era sensibile come un baron metro ma oggi gli sembrava di essere sensibile come un rinoceronte nessuna regola sociale rigida sottintesa prevedeva che si attardasse durante la colazione degli amici anglo anglo indiani ma lui si attardò cercando di coprire la sua invadenza con un torrente di chiacchiere divertenti anche se completamente inutili la cosa creò ulteriormente sconcerto poiché non sembrava voler partecipare al pranzo mentre uno dopo l'altro i più squisiti ed equilibrati kid girls al carry accompagnati da vini appropriati venivano posati davanti agli altri due lui ripete che era uno dei suoi giorni di digiuno e si limitò pertanto a masticare rumorosamente un pezzo di pane e a centellinare un po di vino lasciando intatto un bicchierone d'acqua fredda comunque se la sua fama era ridotta al contrario la sua conversazione fu esuberante ora vi dico quello che farò per voi esclamò vi mescolerò un'insalata io non posso mangiarla ma la mescolerò con un angelo avete una lattuga là sfortunatamente è l'unica cosa che abbiamo rispose l'allegro maggiore lei non deve dimenticare che senape aceto e olio e il resto sono svaniti con l'ampolla e con lo scassinatore lo so rispose padre brauno con tono piuttosto vago questo è quello che ho sempre avuto paura potesse accadere ecco perché porto sempre con me un'oliera mi piacciono le insalate e tra lo stupore dei due uomini prese un portavepe dalla tasca del panciotto e lo mise sulla tavola mi chiedo perché lo scassinatore si sia preso anche la mostarda continuò prendendo una scatola di mostarda da un'altra tasca avrà voluto farsi un impiastro di mostarda suppongo e l'aceto tirando fuori anche quel condimento non ho sentito qualcosa sull'aceto e sulla carta da pacchi in quanto all'olio credo di averlo messo nella mia tasca sinistra la sua loquacità si arristò per un istante alzando gli occhi vide quello che nessun altro vide la figura nera del dottor roman stare in piedi sul prato illuminato dal sole mentre guardava con uno sguardo fisso nella stanza prima che potesse riprendersi completamente dalla sorpresa crei era rientrato lei è un tipo stupefacente disse fissandolo verrò a sentire i suoi sermoni se sono divertenti come le sue maniere la sua voce cambiò un poco il colonnello si appoggiò di nuovo allo schienale della sedia o ci sono i sermoni anche sulle ampolle disse padre brown piuttosto seriamente hai mai sentito parlare della fede come un piccolo granello di senape o della carità che unge insieme all'olio e quanto all'aceto può un soldato dimenticare quel soldato solitario che quando il sole si oscurò il colonnello crei si chinò leggermente in avanti e afferrò la tovaglia padre brown che stava preparando l'insalata verso due cucchiaiate di mostarda nel bicchiere d'acqua accanto a lui si alzò e disse con un tono di voce nuovo forte e improvviso lo beva nello stesso momento il dottore che era immobile nel giardino giunse correndo e spalancando una finestra esclamò mi avete cercato è stato avvelenato quasi disse padre brown con l'ombra di un sorriso perché l'emetico aveva fatto subito effetto e crai giaceva su una poltrona sdraio anzimante come se stesse lottando per la vita ma vivo il maggiore putnam era balzato in piedi con la faccia paonazza segnata dalle macchie un crimine esclamò con voce rauca vado a chiamare la polizia padre brown lo udì a togliere il cappello di foglie di palma nell'attaccapanna e uscire dalla porta anteriore poi sentì il cancello del giardino chiudersi ma lui rimase in piedi da solo a guardare crai dopo un intervallo silenzioso disse con calma non le parlerò molto ma le dirò quello che lei vuole sapere non c'è nessuna maledizione su di lei il tempio della scimmia era una coincidenza o una parte dell'imbroglio e l'imbroglio era l'imbroglio di un uomo bianco c'è solamente un'arma che fa uscire il sangue con un semplice tocco come quella di una piuma un rasoio affilato tenuto da un uomo bianco c'è un solo modo per riempire una stanza comune di un invisibile soffocante veleno aprendo il gas il crimine di un uomo bianco e c'è solamente un tipo di bastone che può essere lanciato da una finestra che possa ruotare a mezz'aria e tornare verso la finestra più vicina il boomerang australiano se vorrà ne potrà vedere alcuni nello studio del maggiore detto questo uscì per parlare a quattro occhi con il dottore un momento dopo odrey watson corse all'interno della casa e si gettò in ginocchio accanto alla sedia di crei lui non poteva sentire quello che si dissero l'un l'altro ma i loro volti si esprimevano stupore e non infelicità il dottore il prete camminarono lentamente uscendo poi dal cancello del giardino suppongo che anche il maggiore fosse innamorato di lei disse con un sospiro e quando l'altro accennò di sì con il capo osservò lei è stato molto generoso dottore ha fatto davvero una buona cosa ma che cos'è che la fece sospettare una cosa da poco disse oman ma che non mi diede tregua in chiesa fino a quando non tornai indietro per vedere che tutto andasse bene quel libro suo sul tavolo era un'opera sui veleni ed era aperto sulla pagina dove si affermava che un certo veleno indiano sebbene mortale e difficile da rintracciare fosse fosse particolarmente facile da neutralizzare con l'uso dei più comuni emetici suppongo che lui l'abbia letto all'ultimo momento e si ricordò allora che c'erano degli emetici nell'ampolliera disse padre brown già l'ha quindi gettata nella pattumiera dove io l'ho trovata insieme al resto dell'argenteria sottratta e nascosta per fingere un furto con scasso ma se lei guarda quella pepiera che ho messo sulla tavola vi vedrà un piccolo buco è quello dove la pallottola di crei l'ha colpita spargendo il pepe facendo stannutire il criminale che stava rubando l'argenteria seguì un silenzio poi il dottor oman osservò severamente e da un bel pezzo che il maggiore sta cercando la polizia o forse è la polizia che cercherà il maggiore replicò il prete beh arrivederci la saggezza di padre brown capitolo 10 l'insalata del colonnello crei grazie a tutti